Ritorno di fiamma tra Sofì Codegoni e Alessandro Basciano? Il gossip impazza dopo una storia Instagram. C'è fermento nel mondo del gossip a seguito di una storia pubblicata su Instagram dal DJ Alessandro Basciano. La domanda che tutti si pongono è, Alessandro Basciano e Sofì Codegoni sono tornati insieme? Al momento è presto per dare una risposta definitiva, ma una foto postata da Basciano sembra far sopporre un possibile ritorno di fiamma tra i due, o forse più plausibilmente, che abbiano trovato un accordo per il bene della loro figlia, Celine Blue, nata nel maggio del 2023. Nella foto in questione, Alessandro Basciano mostra la sua bellissima bambina e si imprevede una mano femminile che molti credono sia quella di Sofì Codegoni. In poco tempo, la storia è diventata virale e molti hanno ipotizzato un ritorno di fiamma tra i due. Anche l'influencer ed esperta di gossip di Yanira Marzano ha condiviso la storia, dando credito a questa ipotesi. Sarà interessante vedere in futuro se i due sono davvero tornati insieme, ma è un buon segno che abbiano trovato un punto di incontro per il bene della loro figlia. Alessandro Basciano e Sofì Codegoni Dalla pesante crisi al ritorno di fiamma? Alessandro Basciano e Sofì Codegoni si sono lasciati alcuni mesi fa, in una rottura tutt'altro che in dolore. Sofì Codegoni, ex Bonas di Avanti Un Altro, aveva scelto il salotto di Silvia Tofanina Verissimo per raccontare la turbolenta fine della loro relazione. Durante l'intervista, aveva accusato Alessandro Basciano di violenze psicologiche e fisiche, affermando di aver subito schiaffi e ceffoni da lui, oltre ad essere stata tradita durante un viaggio di lavoro a Ibiza. Dall'altra parte, Alessandro Basciano si era difeso dalle accuse e aveva dato la sua versione dei fatti. Aveva anche accusato Sofì Codegoni di essere falsa e manipolata dalla sua famiglia, soprattutto dalla madre. Da allora, sono state rilasciate una serie di interviste in cui entrambi si sono detti di tutto. Adesso, sembra che i due abbiano messo da parte le divergenze e che i rapporti siano tornati più tranquilli e sereni. Non sembra, tuttavia, che ci sia stato un ritorno di fiamma tra di loro, almeno per il bene della loro figlia Solene Blue.